Buongiorno a tutti, terzo giorno a Varsavia con sempre i nostri amici docenti alle spalle delle varie delegazioni del mondo Rosario con me, Rogelio della Spagna, Manuel, Manuel, Manuel Dove stiamo andando? Andiamo a scuola e poi scoprirete insieme a noi cosa ci sarà questa giornata E allora, dopo la sigla possiamo fare il secondo della giornata Mentre siamo nel tram e stiamo andando alla scuola polacca Mentre c'è la prof in Coronato che si rifà l'orlo dei pantaloni e guarda perché si è scucito E qui abbiamo Isabel, la nostra portoghese Hola Isabel Vi dico qual è il programma della giornata Adesso andiamo a scuola, dopodiché abbiamo una visita all'impresa dell'IBM che ha una sua sede qui in Varsavia Ritorno a scuola con il pranzo a scuola e dopodiché ci sarà la visita guidata per Varsavia Allora, via con il reportage della giornata Ma dico io, secondo voi, uno dovrà venire a Varsavia per rammentare il pantaloni in un tram pieno di spalle? No, ma non si può fare No, ma hai visto che è successo? Guarda Non si può fare Vabbè Eccoci qui, rinnova la nostra scuola, un bellissimo plesso, dobbiamo dire la verità Una struttura molto molto bella, eccola Stamattina i ragazzi ci aspettano perché andiamo a visitare l'IBM con tutti i colleghi che come vedete Sono sempre lì al nostro seguito, alle nostre spalle Allora Ammiriamo una volta... volevi dire qualcosa, lo sai? No Ammiriamo il nostro ingresso e ci vediamo dentro Bene, eccoci qua, siamo al nostro interno della nostra scuola Guardate, sono le diecime in un quarto E i ragazzi della scuola sono tutti quanti qui, riuniti nei corridoi, come vedete, che fanno la loro pausa Notate laggiù in fondo, hanno i divanetti Venite con me, vi mostro la sala mensa Questa è la sala mensa dove i ragazzi mangiano a pranzo Non so, eh? Hola Personale scolastico, quindi E tutti noi docenti che aspettiamo di essere traduttati Siamo qui, a dopo Dovete sapere che qui in Polonia, a Varsavia, funziona diversamente Ogni docente ha la sua aula e sono i ragazzi che si spostano nelle varie... nelle varie classi Seguono dell'ora di lezione che devono seguire Qui siamo in un'aula conferenze E' appena finito il momento di ricreazione con non una campanella ma una musichetta che ne scandiva il termine E adesso abbiamo il nostro buffet di rinfresco prima della partenza dell'IBM Siamo pronti per il nostro viaggio, adesso siamo tutti nel pulmon E ce ne andiamo all'IBM Ed eccoci qua, siamo arrivati alla IBM Per dirla in inglese la ABM International Business Machine Una delle più grandi industrie statunitense che si occupa di hardware e software per le grandi aziende E ci faranno da Ciceroni i nostri amici polacchi Gregor e Annette Ciao Ciao Bene, usciamo dall'IBM in questo grande parco Dove non abbiamo potuto fare foto perché ovviamente c'è il segreto industriale Immaginate quanti dati mantengono queste aziende per tutto il mondo E adesso andiamo verso un'altra azienda Seguiteci Ciao Beh, siamo nella nostra sala mensa come potete vedere Qui i ragazzi mangiano Pausa pranzo Eccoli qua Che scuola eh Questa invece è la zona dove c'è La zona relax Guardate Qui Loro fanno ricreazione Guardate alle mie spalle Il fondo lì Ce lo spaccio Ed eccoci qua, siamo pronti per il giro turistico della nostra Varsavia Diamo alcuni dati insomma Perché si chiama Varsavia? Perché ci hanno raccontato che una volta lungo la Vistola che è il fiume che bagna Varsavia Viveva un pescatore di nome Vars E il fiume era abitato da una sirena che si chiamava Savia I due insomma si innamorarono E quindi dà ecco l'etimologia del nome Varsavia Adesso alle nostre spalle qui abbiamo la residenza presidenziale Siamo nel town, nella città antica E andiamo verso quello che è il palazzo reale Creato dai monarchi polacchi Quando decisero di trasferire la capitale da Cracovia a Varsavia Andiamo Sì, esageratamente E con la campana di Sigismondo Guardate la professoressa incoronato E tutte le altre professoresse Siamo messi proprio bene Siamo messi proprio bene Dovete fare un cerchio completo Se lo fanno tre ne le fanno No, questo non è Ambaravacci Cicocò Scendete dal piedistallo, forza E noi continuiamo il tour Siamo qui nel centro storico Alle mie spalle La cattedrale La campana di Sigismondo Che la leggenda vuole sia stata ricostruita E che porti fortuna a fare un cerchio tutto intorno Sono le nostre case tipiche Della Varsavia ricostruita E noi facciamo questo tour Che è l'ultima parte di questa giornata di Erasmus Venite con noi Sotto di noi La vistola Il fiume Che bagna Varsavia E siamo in questa piazza Allo al centro non riuscite a vederla Ma c'è Sava La sirenetta di Varsavia E' lì nel centro ormai rinchiusa da una pista di pattinaggio Questa è una tipica piazza caratteristica del centro storico Adesso noi ci fermiamo per una pausa di 30 minuti Prendiamo il caffè Ecco alle nostre spalle il palazzo reale bellissimo Prendiamo il caffè Poi credo rientriamo in albergo E la nostra giornata finisce qui Ciao a tutti E mentre voi ci salutate e ingrassate Bravo A faccia vostro proprio E alla salute nostra Esattamente Noi ce ne andiamo sul mare cara Va bene cara collega Voi facete abbottere o frida da schiatà E noi ce ne andiamo sul mare cara Che poi il mare significa che devo fare il turno di pomeriggio adesso Tutto a posto Va bene Ciao 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 ciao